Grazie a tutti. Come dicevo per chi c'era, essere leghista in Liguria non è facile, l'importante è crederci, siamo una terra di confine, siamo una terra che ha tanto bisogno di Lega perché l'Italia Unita non ci ha distrutto, la Nazione Indipendente e la Repubblica di Genova dominavamo il Mediterraneo e adesso siamo la Cenerentola del Nord, poco male, continuiamo a combattere e continuiamo a crederci. Oggi io sono di Camogli, potevo stare nella Camogli a contare le tedesche sulla spiaggia, corso col sole, ma tra stare sulla spiaggia a Camogli, fare un bagno e venire qua in mezzo a voi, tutta la vita in mezzo a voi, ora e sempre, sempre e ora. Perché come hanno detto tutti i tuoi che c'erano prima di me, si deve combattere, si deve combattere bisogna prenderci, si combatte fuori perché essere una lingua un po' democristiana a meno va bene. Io sono indipendentista, non rimango secessionista, mi pure è libero e va bene indipendente. All'interno che dire abbiamo superato un periodo terribile, ce ne hanno fatte di tutti i colori come diceva Paolo, siamo sopravvissuti e sopravviveremo ancora. La Lega 2.0 ha salvato la Lega, quindi grazie a Bossi che ha creato la Lega, grazie a Maroni che l'ha salvata, ora però la pulizia deve continuare. Perché se preferisco essere secessionista che democristiano, anche all'interno con certi camaleonti, preferisco combattere, rischiare tutto, vincere o morire, piuttosto che essere anche io un po' democristiano e avviarmi sul viale del tramonto. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!